bella sì allora se troviamo nel camper di Maurizio ti posso far vedere ci abbiamo da fare un lavoretto perciò oggi si lavora si lavora a proposito del lavoro nel frattempo che ti guardi il video iscriviti se non ti sei iscritto e clicca il mi piace qua sotto allora questa dinetta è qui questa già abbiamo preparato un po' a tutto questa dinetta è qui adesso devo andare a costruire una controparetina da mettere là ci andremo a mettere un po' di gomma piuma prende un cuscino grosso che cammina lungo lì e quest'altra parete qua a modo e maniera che tu starai sdraiato sul letto o anche seduto su questo che è un letto fisso non ci avrà il freddo d'inverno che ti viene comunque dalla parete perché comunque essendo una parete di carta foderata di carta ti viene allora farò una paretina da mettere così foderata con tessuto e verrà tipo una spalliera di tipo una spalliera con la gomma adesso prendo la metto la metto distante la metto distante di circa mezzo centimetro in modo che dietro ci passerà l'aria un centimetro che ci passerà l'aria dietro così si distanzia senza dove mette lo spessore del coimbettante pluritano espanso o cose del genere che mi danno troppo spessore invece così rubo mezzo centimetro un centimetro verrà avanti con altro centimetro due per l'imbottitura quello che prenderà compreso allora adesso prendo subito le misure work in progress e vado a prendere il materiale allora prese adesso le misure si non ti ho fatto vediamo ho preso il metro ho fatto un metro e 90 per 45 l'altezza ho lasciato all'incirca all'incirca 5 centimetri di spazio qua che poi me li gioco tra di qua e di là per lasciare un pochettino di margine e 45 l'altezza l'ho fatto che arriva leggermente in due tre centimetri più sotto di qua sotto qua in modo in maniera che poi me lo gioco tanto qui ci saranno circa 10 centimetri di madrasso perciò poi lì sotto lei ci interessa tanto perciò lo faccio che vabbè dopo me lo registro qua della stessa identica maniera e poi ho fatto preso le misure per fare anche un allargamento qui della panca perché quando questo qua diventa letto questa parte qui ovviamente vedi si va a ristringere allora io faccio una tavola che quando si alza qua così e allarga un pochettino il letto anche perché sennò se cascherebbe sempre il cuscino questa parte di che il cuscino è un po più largo viene giù invece in quella maniera si tira su e quando ti serve il passaggio tiri giù la tavoletta e non ce l'hai in mezzo ai piedi adesso brigofer arrivo allora tornati tornati a casa comprato il legno eccolo qua ma ti faccio vedere quello che sto a compicciare queste l'ho prese questo già me lo so fatto da tagliato a misura anche per il trasporto perché c'ho il bed fuori uso perciò chiaramente per portarlo con la panda era quello che era allora questo adesso io le vado a tagliare e le metto a misura così ne metterò due tre quattro di essere un po' qua e qua a questo qui che questa è la spalliera dove sta la testa e questo invece è tutto lungo il divanetto modo in maniera che così lo distanziamo un po' ok lo facciamo leggermente più corto tanto non ci serve una volta che è una madonna di mattina anche se non si vede niente però tutto per mi fa vedere che è il peletto quello più grosso no eccolo perfetto posizioniamo posizioniamo aspetta questo era un pochettino posizioniamo una vitarella magica ma non è magica è una vitarella fermete tanto questo poi dopo una volta andrà invicato su il pannello quello principale della parete del camper ecco qua ne mettevo un altro al centro e poi che ma fai il secondo pannello di tastiera è fatto spessorato e questo quando lo andremo a montare ci sarà questo questo spazietto adesso qui è l'ora di fare la gomma piuma rifilo la gomma piuma quella che è in eccesso perché chiaramente il foglio è più largo delle misure che servono a noi perciò vedi con un taglierino rimuovo il materiale che è in eccesso e così preparo la spillatrice la grappettatrice chiamata un po' come mi pare e vai adesso mettiamo il tessuto qua posizioniamo bene tagliamo quello che è in eccesso adesso andiamo a tagliare quello che è in eccesso e poi la grappetta allora vado a occhio ma ne vediamo un po' di più eh spavendo più o meno tanto preoccupate che sta tutto dietro segui niente adesso vorrei provare a far più ce che taglia però allora come primo risultato eccoci qua e questa sarà la spagliera guarda un po' bellina no poi inforziamo due grappette un po' meglio e passiamo a quella più piccola di quella di capoccia la stessa procedura anche dell'acqua qui ho messo un po' di grappette ovviamente mi vado a dare una mezza tagliata a quello che possa essere un pochettino più in eccesso ho preferito lasciarne un po' di più perché ma io più che meno poi dopo muovo rifiliamo un pochettino qui vado a tirare un pochettino meglio eh metto qualche puntino di più e stappo qui penso che sta bene così poi tanto questa è tutta la parte dietro non si vede niente eh con i suoi spessori per far circolare un po' d'aria li staccasse dal pannello work in progress finito tutto in tre i pezzi questo viene l'appoggino con le sue cerniere lì sotto qui non ci ho messo l'imbottitura perché non serve e questi sono invece altri due pezzi allora adesso fatto tutto andiamo a fare il montaggio è arrivata l'ora di mettere tutto quanto per posizionare il lavoretto fatto perciò scarico nella macchina porto giù poi iniziamo a posizionare e cominciamo a lavorare aiutami sì aiutami attenta a far un cazzo peggio di me vabbè io vado a scaricare tu resta qua non ti muovi scarico e ti faccio vedere il work in progress allora come prima cosa andiamo a staccare questo che non ci serve più che è per reggere il tavolino ma tanto qui il letto resterà sempre fatto e poi lo riutilizzeremo fuori e mette il tavolino all'esterno e adesso andiamo a montare questo che sarebbe l'allungamento per il letto però siccome le mani mi servono tutte e due e lo spazio ce n'è poco ma lo monto e poi te lo faccio del tanto sotto i tadelli niente di che assù ammassa che fatica sta seduti sdragliati sdragliati seduti seduti sdragliati poi hanno in piedi ancora più fatica allora lavoro lavoro come cazzo parlesimo lavoro ultimato io penso che è figo speriamo che piaccia il Maurizio e soprattutto speriamo che piaccia la signora perché da solito le signore sono quelle un pochettino più complicate ho rinforzato anche la panca che si stava rovinando andiamo che te lo porto a far vedere così vi dici che cosa ne pensi oh se non ti sei iscritto iscrivete perché io il video lo faccio e vedo uguale però insomma è più professionale se ti sei iscritto asci eh allora la spagliera con la spagliera la testiera e la spagliera come li puoi chiamare vabbè questi hanno un ottimo risultato col cuscino che ci abbiamo messo resta pure morbido così te ci puoi pure appoggiare e te forma proprio praticamente da tipano non ci ho messo nessuna vite ci ho messo un po' di nastro biadesivo ma te dico la verità sta incastrato già per conto suo non si muove poi calcolai che quando ci metti un cuscino che quanto qui stanno a lavare stanno a fare i lavori metti il cuscino di 10 cm sta qui questo è bloccato non si muove però nel dubbio io ci ho messo un pezzettino di nastro biadesivo così lo può togliere quando gli pare fa manutenzione pulire contro là se dovesse fa muff e cose varie ma non fa niente perché qua dietro gli abbiamo lasciato il passaggio dell'aria per quanto sia un pochettino sta bene e ho riparato ah aspetta l'ho allargato il letto come avevamo detto questo pure rifoterato con il tessuto aspetta perché ho finito le mani vabbè se apre questo qui perciò quando allarga chiaramente tutti immaginavano c'è stato i materassi sopra è tutto diverso no? c'è stato il materassi sopra invece c'è stato il materassi a penzoloni si appoggerà lì ovviamente questo è un po' delicato non è che ci puoi salire i piedi sopra però per appoggiare i piedi quando sta sdraiato insomma è robusto e a regge dovrebbe chiudiamo è fatta una piccola riparazione anche qui che c'era il gavone che era morbido qui al centro io ci ho messo un trave di legno un tralettino di legno che ha rinforzato senza spenni e sordi del materiale di ricicle allora il video è terminato qui adesso domani consegneremo il mezzo la prova del 9 se il lavoro è piaciuto o no lo vedremo domani spero che si a me mi sembra che è carino è fatto con con pochi soldi perché alla fine vabbè il tessuto ce l'avevano loro di rimanenza di altre cose che hanno fatto qui dentro con il tessuto perciò alla fine abbiamo comprato un po' di gomma piume i tavoli di legno i viti insomma un po' di robetta così ci ha fatto con pochi soldi però il risultato è ottimale e ovviamente quando tu andrai quando arriverà all'inverno il freddo vai in montagna sulla neve o comunque proprio a prescindere che ci sia freddo questa parete qui mentre quando tu vai a dormire comunque per quanto sia resta più isolata non stai direttamente a contatto come la parete normale come è di sopra vedi? cioè invece di stare così comunque c'hai questo spessore che ti mantiene un pochettino di carta vabbè a questo punto ho detto che te lo devo dire se il like lo lasci mi fa piacere se lasci un commento di come è il lavoro se ti piace o no mi fa piacere boh vado a fare una biretta perché me la sono meritata tutta a work in progress comune con una Grazie a tutti